Sì, quello che stava guidando era allergico all'alcol, lui non aveva bevuto perché stavano andando a festeggiare il compleanno dell'amica lui. Eh, vabbè, questo è un po' troppo. Sì, è una parentesi storia vera. Eh, è una storia vera, amicrata da una storia vera. Però facciamo adesso. Allora, quando si racconta, si fa una storia, ci sono vari step, no? No, la cosa più importante quando noi dobbiamo raccontarla a voce è fare una sintesi molto dettagliata, poche frasi sintetiche in cui noi cerchiamo di raccontare tutta la storia, ok? Tipo sette, otto frasi, six, seven sentences to tell a story, ok? Ok, this is script, this is the subject, ok? Ok, so we have to tell everything, you have to tell everything about the story. So we have to add synthetic. Ok, synthetic and you have to tell everything.